Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone delle Azzorre tenderà a spostarsi più verso il Mediterraneo orientale, lasciando scoperte le aree più a occidente, ma garantendo al sud un'altra giornata di tempo stabile in un contesto più variabile. Nei prossimi giorni una nuova perturbazione potrebbe giungere sull'Italia, ma ne riparleremo. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 24 aprile. La giornata si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi sui settori pugliesi, maggiore nuvolosità sulla Lucania. Al pomeriggio potranno svilupparsi nubi più intense nelle aree interne della Puglia centrale e sul Gargano, con possibilità di brevi rovesci, altrove tempo stabile con poche nubi. Migliora ovunque durante le ore serali. Le temperature sono previste in un ulteriore aumento, sia nei valori massimi che nei valori minimi. I venti, inizialmente deboli e variabili, dal pomeriggio si disporranno dai quadranti meridionali, mari, mosso lo Ionio, poco mosso l'Adriatico. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Giuseppe De Padova, che ci invia questa fantastica foto della mareggiata che si infrange sulle scogliere di Polignano a mare. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.